Carlo Forte, 14 dicembre 2009. Carlo Forte si tinge di giallo. Martedì 8 dicembre è stato ritrovato un frammento di osso umane. Di preciso si tratta di un teschio, della parte della calotta cranica che arriva fino ai bulbi oculari. È stato trovato da un turista che passeggiava nella spiaggia della Bobba, poco dopo il giunco. Secondo le prime indagini si parla di un teschio di un bambino, che avrebbe avuto tra i 5 e i 10 anni. Il decesso risale probabilmente a 25 e 30 anni fa. Sicuramente non si tratta di un bambino del posto, per le correnti che ci sono nella zona, ed inoltre non risultano scomparsi di bambini di quell'età risalenti a qual determinato periodo. Sono in corso ulteriori indagini, per rilevare anche se risultano denunce nella zona del Sulcis Iglesiente. Si attendono i risultati di ulteriori informazioni da parte del medico legale e dalle analisi scientifiche. Il teschio verrà dunque portato all'Istituto di Medicina Legale a Cagliari.